Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono stati a 6 e benvenuti in questo nuovo episodio da EulessCraft Allora, una scusa puntata stiamo finendo di farci il nostro bellissimo potenziamento per il nostro jetpack Bisogna un attimo dell'energetica infusa di appiazzare da qualche parte, tipo qua Devo dare un po' di energia perché deve recuperarmi e metto Oh, beh, è andato Che, che, è scomparso? Eh, what the fuck Eh, aspettate ragazzi, un problema logistico Eh, wrench, 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 dove l'ho messa la wrench? Eh, da queste parti sta, a proposito qua abbiamo un nostro, vabbè, non ci serve per il momento Allora, ho perso un attimo la wrench Eeeh, dove l'ho messa? Wrench, ah, forse qui dentro No, non ce l'ho Dove l'ho messa la wrench? Uh, guarda, ma di minerali ci sono What the fuck È finita l'energia? Sì, è finita l'energia Eeeh, eeeh, come levo quello adesso? Ah, forse qua, forse qua, forse qua Eh, sì, infatti, sta qua Perfetto Allora, aspettate che svuot Che diamo questo Nostro jetpack, dove è finito? Ah, sta qui dentro Oddio, qui dentro è rimasto Ok Sierà l'uscita lì dietro, perfetto Allora, abbiamo da fare il jetpack Perfetto, eccolo qua Questo qui, l'hardner Che si fa in questo modo Dobbiamo farci quindi Un paio di reactata dynamo Che si fanno Con il bronzo Che non è tanto difficile da fare Quindi, cosa facciamo? Abbiamo messo a fare, se non sbaglio Qui dentro Un po' di roba No, mi senti no Allora, facciamo così Prendiamo della tin E del E del copper E ci facciamo un bel po' di bronzo Che poi, vabbè, bronzo non è Induction smelter Perché dovrebbe esserci Tipo altra roba Non è proprio bronzo Ora Perché sta mettendo? Ah, merda Devo un attimo Fare in questo modo Facciamo nessuno Perfetto Allora Essenzialmente Ok Sta facendo Questo tinkerallo ingot Che più o meno È il bronzo Ok Mi sembra un po' di roba Mi sembra anche un po' di Questo coal Che abbiamo un po' di roba In effetti Mi mettiamo tipo qui dentro Ok Coal e coal Perfetto Abbiamo un'energia Ottimo E Deve aver finito il coal No, il copper è finito Sì, infatti Ok, cosa facciamo quindi? Allora Ci servirà un po' di copper Facciamone un po' di più Va, tanto non è un problema Ok Facciamoci un sacco Ma un sacco davvero Di Di bronzo Perché mi servirà in futuro E quindi è meglio Sempre averlo pronto Ah, mi servirà un po' di legna Anche Dovrei averne abbastanza Oh, vale Ho preso un sacco di stick Infatti Abbiamo della cobblestone Quindi cosa facciamo? Ci facciamo un paio di stick Ci sembra la bellezza di Anzi, no Pugia, sì Quanti stick ci servono? Ci servono Quattro Ok, quattro Quattro e quattro Perfetto Ok Ci facciamo Ci facciamo tutti in cobblestone Ok Così Perfetto E ci facciamo Questi qua In Copper Perfetto Quattro gear di copper Eh, poi Mi servirà Un po' di Redstone E un po' di silver Perfetto Un sacco di silver All'altra parte Quindi non è un problema Perfetto Ci facciamo Due di questi Ok Due Due Perfetto E Mi sa che mi servono I pistoni Giusto? Eh, no Non servono per niente I pistoni Siamo soltanto Del bronzo Ok, perfetto Ah, bugia Mi servono un po' di più Di questi Mi servono altre due Ok Perfetto Facciamo una bellezza Di quattro reactatant Che sono Dei generatori potenziati Che probabilmente Non ci serve far vedere Ok E Facciamo Così Tipo Così Probabilmente Sì, è così Perfetto Quattro reactatant Due Perché due? Ah Eh, no È vero Sono due per due Ok, mi servono altre Ne servono Servono altre Quattro In totale Ok No problem Sì, compriamo un po' di Bellissima Cobblestone Perfetto Dove stanno i nostri cosi Good in gear Perfetto Uno qua Due Tre E quattro Perfetto Quattro gear Ci facciamo in tinker Mi sa che non ce la faccio Infatti Mi serviranno la bellezza Di altro Di altro tinkerallui Aspettate che non lo troviamo Ok Uh, ma voglia Abbiamo un'eternità Ce ne abbiamo Ok Dove stanno qua? Perfetto Altri due Uno E due Perfetto E allora Cerchiamo in questo modo Così, così Così E questi due Perfetto Abbiamo questi qua Che abbiamo Quelli che servivano Adesso dobbiamo farci Questi cosi Redstone Ah, un altro bronze gear Due bronze gear Una redstone deception E anche questo iron Quindi magari prendiamo un po' di glass Che abbiamo Da qualche pa Probabilmente ho lasciato qui dentro Il glass Infatti Infatti Servirà un po' di questo Invar E Mi servirà anche Allora uno che stava qua Abbiamo visto Sì E poi cos'altro mi serviva? Ricordo Ricordo qualcos'altro Mi serviva Questo Cos'altro mi serviva ragazzi Sapete Ah, vabbè Un pezzo di gold Ok Diamo un po' Dovrebbe essere tutto necessario Facciamolo qui dentro Perché semmeno Non dobbiamo fare Tipo indietro ogni volta Ah, facciamo Tutto due di questi Perfetto Due di questi Uno, due Ah, del ferro È vero È vero Perché mi serviva Per fare altre cose Uno, due Tre Quattro Ottimo Facciamo quattro di questi In questo modo Due E Dreadstone Ok Due di questi Perfetto Reactatant Poi mi servono due di questi Due di questi Qua Ah, mi servivano di più È vero Mi servono Altre due Ok Perfetto Quattro Poi Due di questi 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 Cosa faccio C'era in mezzo Ragazzi Perché non lo ricordo Ah, è vero Il gear Quanto roba dobbiamo farci alla volta Due Solo due stavolta Ok, è che abbiamo quasi finito Abbiamo quasi finito Ok, so che Craftare è bello E complicato Però non è un grandissimo problema Ok Due Ok Bronze gear Due di questi Questi qua sotto Questo Questo E per finire Gli invar Due e due Perfetto Abbiamo il nostro Bellardner Tooster Mi servirà A levare il nostro Led 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 Stone Jetpack E bam 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 Ardner Jetpack Che ha 25000 Perché la potenza Rimane Però dobbiamo Essenzialmente Riempirlo ancora Quindi Prima di tutto Facciamo questo modo Facciamo così Clicchiamo Facciamo questo modo Perfetto A meno A meno Non abbiamo problemi Di nessun tipo Tipo Materiali che vanno Dall'altra parte Del mondo E mettiamo a caricarlo Ci vorrà giusto un pochetto Però più o meno Ci metterà A poco Ok Adesso abbiamo la bellezza Di tipo Quante volte Potenziamento Sono 16 volte Dovrebbe essere Quel Il Ledstone Quindi Buono E quello dopo Quanto è 2 milioni Oh mio dio Cioè È gigantesco Dovrebbe essere 5 volte Perfetto E poi quello finale Che è questo qui Il Resonant Jetpack In questo modo Ne ha 10 milioni Quindi altre 5 volte in più Poi c'è Oh è vero C'è la Flux Infusa Jetpack Che è tipo What the fuck OP E ha 50 milioni Quindi immaginate Quanto posso volare così Per il momento mi basta Ok Allora cosa facciamo Facciamo in questo modo Mettiamo un po' di copper Anzi mettiamo qua Direttamente il copper Perfetto Mettiamo tutti i materiali Che non ci interessano Per il momento a posto Anzi Siamo direttamente così Dovrei avere un posto Per l'invar Che in teoria non ho Quindi facciamolo qui sopra Perfetto E ci buttiamo Cos'altro Questo qua Dovo ancora mettere Tutto a posto Quindi tranquilli Lo faremo molto molto presto Nel frattempo Scusate In questa puntata Abbiamo preso Questo qui E questo qui Mi servono due di questi E due di questi Perfetto Per farci tanta roba Infatti faremo Un paio di cose interessanti Sì sento il piccone Per iniziare Ma Poi farò vedere altre cose Adesso iniziamo a mettere Qui dentro Un paio di cose Abbiamo un sacco di materiali Che non ci interessano Ci vorrà davvero un po' Per cuocere Però non è un grandissimo problema Perché abbiamo tante cose da fare Allora tutto dormiamo Ok E Finalmente abbiamo Un bel jetpack Dovrebbe essere un po' più veloce Rispetto al precedente Facciamo questa che Che tipo sta bruciando Ci serve uno E Due No è quell'altro Questo qua Il tour rod E dobbiamo andare a ricerca Di cane da zucchero E Le vado a ricerca E arrivo subitissimo Ok ragazzi Ne ho trovati parecchi Tipo Vedete qua Un paio di robe buone Opla Adesso le recuperiamo Perfetto Ok Io ho attivato la modalità hover Cos'è la modalità hover? Senzalmente Veniamo fermi Ma pian piano scendiamo Ed è un'ottima modalità Spreca mi sembra più energia Però è ottima Per quello che facciamo Si attiva col tasto K Per il momento ho aggiunto Perché la C Non andava Però in futuro Penso lo cambieremo Comunque Nel prossimo aggiornamento Di Ulissecapt Lo vedrete migliorato A proposito Oggi è Sabato Sì E oggi No oggi Sì Già c'è sabato E oggi Ah quello è di sotto Ok Oggi arriverà Un nuovo update Sul Technic Launch Quindi non perdetevelo Per chi Per chi non l'ha visto E Essenzialmente Divertitevi Editevi Se trovate dei bug Così in giro Capito? Bene Allora nel frattempo Abbiamo un paio di canela zucchero E Andiamo di qua Va direttamente Ci facciamo Dei paper Che mi servono Perfetto E andiamoci a fare Il tomb binding In paper Perché il tomb binding In paper Cosa fa? Ci dà un modifier In più Vedete Ulisse Ma questo diventa Più schifoso No Non proprio E rimane Più o meno lo stesso Non è Non ha tanti cambiamenti Quindi Non preoccupate Facciamo un tomb binding Ah proprio mi servirà Mi sa Ah è vero Devo farmi per forza Mi servirà magari Un pezzo di lente Devo farmi Questi qui Mi sa che si possono fare Anche qui tipo Eccoli qua Li paper stack Mi sembra Mi servono Vero? Yeah Ah no è proprio questo Che non va bene È vero Questo mi sembra Non posso tornare indietro No Vabbè interrope Per il stack Perché mi serviranno Facciamo così Perfetto Eccolo qua Il paper Paper binding Paper Vabbè paper Paper Quello che è insomma Paper Ok A posto Vediamo qua Il manilium Manilium Che è quello che ci servirà A noi Perfetto Quindi adesso ci mettiamo Qui sopra il manilium E manilium Ok Manilium No è manilium Ok ho ragione io Perfetto Ok Manilium è un ottima Un ottimo davvero materiale Che però io non predeligo Perché è un materiale Equilibrato Però non è né veloce Cioè non è né troppo veloce Né troppo resistente Perché? Perché sostanzialmente È un materiale Come ho detto A metà E quindi è un'unione Tra ardite E cobalto Infatti se facciamo Il cobalto Un piccone Full di cobalto È meno resistente Ma più veloce Mentre un piccone Di ardite È meno veloce Ma più resistente Quindi Possiamo fare qualcosa Diciamo Senza usare il manilium Abbastanza Figo Che provo a vedere Nel prossimo episodio Nel frattempo Questo piccone Ha 3000 Di durabilità Ed è una cosa bellissima Davvero Io lo prendo Mentre abbiamo la bellezza Di 4 modifier Per il momento Che è davvero tantissimo Possiamo aggiungersi Altimo di fire Se vogliamo E penso che Terò questo Per il momento Voglio fare Una cosa Abbastanza veloce E farmi Farmi una batteria Questa qui Questa di ardner Che è comunque Un bel po' potente Che contiene 400k Di rf E non è male Anzi Possiamo fare Anche questa qua Con l'electrum Che si fa Con Silver e gold Quasi quasi lo faccio Facciamo due gold Facciamo un po' di questi va E un po' di silver Perfetto E ci facciamo Un'altra lega Interessante Della tinker C'è una tinker Scusate Della Della Thermal Expansion Che è L'electrum Ingot Che servirà Per fare altro Ok prendiamo tipo 4 Basta ne avanzano Prendiamone un po' di più Magari Serviranno Ok Prendiamo un po' di Invar Ci serviranno tipo 3 o 4 Prendiamone un po' Ok Servirà un po' di Copper Lead E Redstone Perfetto Ok Ci facciamo qua Un paio di cose Facciamo per esempio Questa La prima Servirà anche sul Furo è vero 1 2 E 3 Perfetto Andiamo qua Facciamo in questo modo Bam Ah merda Ok facciamo in questo modo Vabbè si dai Facciamo la mano Chi se ne frega Ah mi serviranno Due pezzi di led Vero Ok ecco perché non andava Ok Led A posto Allora sapete una cosa interessante Se noi clicchiamo Qua sopra Sulla led Su questa qui E facciamo Shift Tasto sinistro Su questo qua Automaticamente Me lo mette nel crafting Se sai cosa farà Con questo Per esempio Bam Se abbiamo tutti i materiali Mi servirà tin è vero Tin E cos'altro mi servirà Con l'electrum Sotto Un diamante Addirittura Un diamante Ok abbiamo tutto Necessario Quindi andiamo qua Facciamo così Beh cos'altro ci manca Tin ingot Redstone Eh ci abbiamo qua Forse non li prende Di dentro Non penso No non lo prende Sannamente Ok Questo Eh Poi Questo nel mezzo Ah probabilmente Questo ledstone Non prende Vero Due di questi E redstone Uno Due Tre Perfetto Questo è andato Ci facciamo adesso Quello dopo In questo modo Uno Due Tre E un diamante Bam Redstone Flux Capacitator Potremmo farci anche questo Solo che Questo Ci vuole Piroteum E l'Elderium Che comunque È un po' Verso late game Quindi per adesso Lasciamo stare Ci serve Povera The shiny Severstone Ender bucket Ma per adesso Non ce l'abbiamo Perfetto Cosa facciamo Ci serve ancora Uno di questo Perfetto E Gold Ah no Ci serviranno un paio di gold in più Tre Quattro Cinque Sette Sette Otto E nove Un diamante Redstone Non ce l'abbiamo Ma quella va bene Non è un problema E a proposito Ci serve anche Un paio di questi Ok Altra cosa Dovrei avere un po' di quarzo Da qualche parte Qui dentro Mi sembra No Qua forse Lo prendiamo E facciamo una cosa Che possiamo fare sulla spada Visto che ci siamo Facciamo Su questa qua In In ferro Visto che la terremo per un po' Perché poi vedremo un po' Quale fare Allora cosa facciamo Andiamo qua Ci facciamo Il nostro bel piccone Con questo sopra Bam E tadan Abbiamo un piccone Con un potenziamento Ovvero Va a elettricità Ragazzi Non più a durabilità Elettricità Perfetto Sopra ci mettiamo A proposito Che cavolo Dovevo farmi Il blocco Di Il blocco Dovevo avermi una carta Importatile Perché ti potrebbe essere Molto molto utile In effetti Solo che Prima c'era nella Factorization Adesso non c'è più Non so perché Sinceramente Sono persone cattive Quelle che hanno giunto Non ricordo Se era la Factorization Però ricordo Si si era la Factorization Che aggiungeva Quella crafting table Per terra Che era molto carina Ok Allora aggiungiamo Un altro modifier Al nostro piccolo amico Poi se leviamo un attimo Questo qua per ora Almeno Riusciamo a leggere qualcosa Perfetto Ok Questo Un diamante Abbiamo un altro modifier Vedete abbiamo Flux Che sarebbe Vuol dire che abbiamo La La redstone flux All'interno 2 milioni di redstone flux Un bel po' ragazzi Giornabilità Quad milla Vedete Mining speed Mining level Ma può minare di tutto Ragazzi Senza problemi Mettiamo un po' di lapis Perché Così almeno siamo Pronti per il lapis Tanto in futuro Le aggiungeremo tutto quanto E E basta Ah vabbè Mettiamoci anche la redstone va Ok Basta però Così vediamo un attimo Quanto i modi fare Ci rimangono dopo E poi le metterò Tutti io Tranquillamente Poi Qua dentro Ci mettiamo La spada E bam Ci mettiamo sopra Il quartz 72 di quartz Ci daranno Potenziamenti Vedete che Ci danno attacchi Ogni 72 Se non sbaglio E Ci danno Un potenziamento Mi sa ogni 10 Se non sbaglio Vediamo un po' No Ogni 72 Ci danno Un attacco In più In più Ed è una cosa molto carina Perché potremmo fareci Un sacco di danno In effetti Possiamo metterci anche No Adesso non si può mettere Qui sopra Si può mettere però Altre cose Tipo Cose che vedremo In futuro Che sono tanto carine Tipo Qualcosa che Respinge il mob Qualcosa che fa Decapitare il mob Quindi ci dà le teste Ma comunque Queste cose le vedremo Magari in un prossimo futuro Adesso è un testo di tutto Prima di andarmene Vi faccio vedere un attimo Come Si Mette Cioè come si Come vuoi dire Come dire Come si ricarica il nostro piccone Mettiamolo qui dentro Bam Recupera l'energia da qua E tadan Si ricarica Come normale Come nel jetpack Tranquillamente Solo che tipo Questa energia probabilmente Non basterà Per quello che dobbiamo fare Proprio se l'ho stucchiato Tutto Ho stucchiato E te pareva Ok Ci vorrà un po' Per far tutto quanto Vedete quanta roba c'è Bam Uh vedete Si cambia colore A seconda di Quanta energia c'è E c'è davvero tantissima roba Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Di Rizzo 96 Ciao Ciao ragazzi Ehi tu Sì Dico proprio te Sei nuovo da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti Io non so E varlo più da vicino Persone o animali O bambini Non sono stati scontati Per la realizzazione di questo video